La parte più divertente del corso Bassista Contemporanea Online. La parte più interessante, più divertente, quella che ti darà sicuramente dell'enorme soddisfazione del corso Bassista Contemporanea Online, è il quarto ciclo, quello che va dalla lezione 15 alla 20. Perché in questo ciclo, questa è la versione nuova che si riconosce perché c'è questa scritta rossa nuova edizione, che è un'edizione diciamo nuova appena uscita, con aggiunta di materiale, graficamente più comoda da leggere eccetera, con uno spirale anche particolare che ci permette di poterla usare sul leggio in maniera ancora più comoda. Ecco, la parte più divertente di questo corso, quella che va dalla lezione 15 alla 20, è interessantissima perché è piena di spunti, piena di stimoli, di cose creative, anche perché chiaramente c'è stato tutto il lavoro precedente. Perché quello che è importante è che tutto sfocia sempre in qualcosa di più grande, di più ampio, di più interessante, perché c'è il lavoro precedente. In questo particolare, nel quarto ciclo, c'è un grossissimo lavoro su come semplificare, memorizzare scale, accordi, c'è un lavoro all'interno delle forme di come sintetizzare il tutto per rendere tutto più semplice, perché il problema grosso, come al solito, è quello di avere chiaro al volo quello che si deve fare, cioè se io ho delle difficoltà a trovare il disegno della scala, sapere dove farlo, che note sono eccetera, non sarò sicuramente molto rilassato nel suonare e avrò dei problemi. Invece c'è bisogno di avere capacità di sintesi e il metodo cerca di sintetizzarti al massimo i punti importanti per poter improvvisare, per poter creare il tuo lavoro, cioè di bassista. Poi c'è un altro grosso lavoro su quello che invece è tutti gli elementi che servono per costruire le linee di basso, perché le linee di basso hanno una loro generazione precisa, lavorare sugli accordi, sulle scale, sui cromatismi, ci sono una serie di esercizi, una serie quindi di sintesi che ti permettono di avere al volo sotto controllo le possibilità per costruire le tue linee di basso appunto al volo. C'è un uso dei bicordi, ci sono degli esercizi per abituarti proprio ad usare i bicordi sul basso, cosa anche questa piuttosto interessante, e c'è un grosso lavoro anche per quel che riguarda la semplificazione ritmica, in particolare dalla lezione 16 c'è un lavoro sull'analisi e su quelle che sono l'isolamento dei semplici nuovi elementi, nove elementi che ti permettono, combinandoli, di tirar fuori tutte le ritmiche che servono per la maggior parte della musica pop, rock, funky e anche in parte jazz. E poi chiaramente, specialmente dalla lezione 19-20, c'è una tantissima tecnica, ma tecnica quella che io chiamo tecnica intelligente. Io sono un po' un affezionato della tecnica perché mi piace poter avere fluidità, scioltezza, in modo che le mie idee possano uscire senza ostacoli a un'idea musicale e le mie mani siano in grado di farlo. Ebbene, qui c'è questa tecnica che io chiamo tecnica intelligente, che vuol dire che è una tecnica che io posso, facendo questi esercizi, applicarla direttamente nei pezzi di musica che faccio, e non semplicemente una serie di meccanismi che faccio con le dita, ma che poi in pratica nella musica che suonerò non li userò mai perché questi meccanismi non sono, ad esempio, collocabili in un contesto tonale. Quindi il lavoro che c'è dalla lezione in particolare dalla 16 alla 20, che è il quarto ciclo, fa sì che questo diventi il ciclo in assoluto più divertente. Poi ci sarà dalla 21 alla 25 un altro materiale altrettanto interessante, ma grazie al fatto che appunto dalla lezione 16 alla 20 hai messo via una serie di concetti molto molto importanti che svilupperai poi dalla 21 alla 25. Spero che possa essere interessante, chiaramente questo segno qua è il segno che indica che è la mia copia, la copia originale non ha questa barra di traverso. Spero che possa interessarti e comunque se stai già frequentando il corso ti dico insisti perché sicuramente hai sotto mano uno dei migliori metodi che esistono in commercio, ce ne sono tanti altri come dico sempre, ma questo è sicuramente molto strutturato e molto preciso. Ci vediamo in un prossimo video, ciao! Grazie a tutti!